Io non hablo mucho, ma quando lo faccio è per parlare di qualcosa di muy importante. Era il 1934, molte cose accaddero quell'anno, ma ciò che nessuno ricorda è che il 12 novembre i The Bad Foucault scrissero Lo Spartito, una grande raccolta di opere e canzoni che successivamente furono palaggiate da tutti gli artisti moderni. Io sono qui oggi, come portavoce dei Bad Foucault, per rivendicare la proprietà intellettuale di ogni singola opera, canzone, rumore che sia mai stata riprodotta su questa terra dal 1934 a domani. Ma rivendicare a parole non basta, servono i fatti. Nel corso di quasi un secolo ho capito che è inutile nascondere la verità. Bisogna portarla tra la gente, e non sui grandi palchi come gli artisti comuni, ma per le strade, nei vicoli, nei parchi. Ed è per questo che noi Foucault organizzeremo un tour europeo dove le strade saranno il nostro palco. Belle parole, ma io non tengo di nero. Aiuta i Bad Foucault in questa grande impresa. Vai su Music Racer, donna la suifra che vuoi e scegli la tua ricompensa. Se credi in noi, condividi su Facebook questo video, questo ci darà maggiore possibilità per raccontare il mondo del campo. Abbiamo bisogno di voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.